Tutto pronto a Salerno per l'accensione del grande albero di Natale in piazza Portanova, appuntamento a sabato pomeriggio, quando l'evento Lucid Artista entrerà sempre più nel vivo anche con l'inaugurazione delle installazioni luminose nella zona orientale della città, atteso anche il governatore Vincenzo De Luca. È il momento clou delle Lucid Artista, un albero di 26 metri con 400 led, quindi colori tutti sul bianco e dorato e fiori bianchi, ci illumineranno per tutto il periodo dei Lucid Artista. Lucid Artista che si illumineranno anche in tutta la zona orientale di Salerno, quindi le luminari e prettamente natalizie saranno tutte accese da sabato ore 17 e vi invito tutti chiaramente a venire a seguirci, avremo anche un bel coro Gospel, Friends for Gospel, che ci allieterà l'accensione. Accoglienza a 360 gradi in città, grazie ad una manifestazione Lucid Artista diventata anche un importante contenitore culturale. Lucid Artista che chiaramente illumina non solo la nostra città ma anche la nostra offerta culturale, dal teatro alto al teatro popolare, dalla musica classica alla musica jazz, ai cori, a tante attività artistiche come i presepi artistici, come mostre d'arte contemporanea, quindi tutto questo per rendere ancora più valido e sentito questo Natale, quindi che Natale significa anche aggregazione. Grazie. Grazie.